Sara, sorridi. Eh? Ne avete pensato. Sì. Guarda, stiamo facendo un montanato per i cani del canino. Ah, mirate, il cano peso dell'Axel. Questo è mio. Ciao. No, quello è quello della Sara. Lui è mio. O è mia, non lo so. Il mio canino è quello dell'Ilaria che ha un cane pombo. Andiamo, Sara. Aspetta. Sì. Chissà cosa gli hai fatto. Ciao. Fare scherzi, non ti buttare da nessuna parte? Io non ti seguo.